Sohari! Che cosa stai facendo? Non capisco. Pensavi davvero che ti avessi chiesto di partecipare alla vendita? Ti ho detto di venire alle 5 per fare le pulizie. Questo non è un posto per te. Vuole vendere quelle cose? C'è da dire che sono diverse. Sì. A quanti won le vendi? Ari, qui vengono esposti solo capi firmati. Le tue cose sono fuori luogo. No, è ammesso qualunque oggetto personale. È questa l'essenza del bazar. Tesoro, possiamo accettare che non sia al nostro livello, ma qui viene meno l'eleganza. È imbarazzante. Che figura ci facciamo? Sì, ora basta. Secondo me state davvero esagerando adesso. Non ci sono solo cose di poco valore. C'è anche la borsa che ha rinno... Smettila, Johnson. Voglio andare via. Subito. Perché non ho nemmeno fatto... Non mi hai sentita! Voglio andare via. Mi dispiace molto per l'inconveniente. Dove vai? Aspettami!